Oleolito di elicriso e tu come lo fai? Al sole o all'ombra? Con la garza o col tappo? Fiori freschi o fiori secchi? Ma prima di vedere come si fa andiamo a capire che cosa andiamo ad estrarre con l'olio che andremo ad utilizzare. 1. Carotenoidi, amici della nostra pelle. 2. Acidi grassi come l'acido linoleico, anch'esso un potente antiossidante e amico della pelle. E 3. Special guest, gli oli essenziali. E saranno loro che dovremo in ogni modo cercare di preservare nel nostro Oleolito. Intanto dobbiamo dire che l'olio essenziale di elicriso è uno di quelli che costa di più in assoluto. Ha un prezzo esorbitante. Perché? Perché ci vuole una tonnellata di fiori freschi per estrarre circa un litro di oli essenziali. L'ottenimento dell'olio essenziale, come si sa, si ottiene tramite distillazione in corrente di vapore. C'è uno studio molto interessante dove vanno ad analizzare vari campioni ottenuti in vari momenti della distillazione. Se visto come in un primo momento si vanno ad estrarre essenzialmente i monoterpeni, come per esempio l'alfapinene, il limonene, il nerolo, linalolo, il geraniolo e tanti altri. Questi riescono a garantire un bouquet olfattivo molto piacevole. Infatti è questo primo distillato che viene maggiormente preferito dalle industrie cosmetiche e profumiere. Se poi si prolunga invece il tempo di estrazione andremo ad avere nel nostro olio essenziale anche i sesquiterpeni e i loro ossidi, come per esempio il curcumene, il selinene, l'italidione, il cariofillene, il bisabolene e tanti altri. Ed è questa l'estrazione più funzionale in ambito fitoterapico. Si è visto infatti in questo studio come questi oli essenziali siano molto più efficienti soprattutto nella lotta contro la carica batterica da stafilococco aureo. Noi questi problemi non ce li dobbiamo porre perché con il nostro oliolito andiamo ad estrarre la totalità delle sostanze apolari. Quindi abbiamo detto i carotenoidi, gli acidi grassi e appunto gli oli essenziali, tutti i terpeni che sono lì presenti. Ma è fondamentale cercare di preservarli. Già abbiamo detto che ci vuole una tonnellata di fiori freschi per fare un litro di oli essenziali. Quindi capirete che in un mazzolino così gli oli essenziali saranno pochissimi, seppur molto molto funzionali e potenti. 1. L'essiccazione. Durante l'essiccazione, anche se questa è eseguita a regola d'arte, nel modo perfetto, un po' di oli essenziali si vanno a perdere. Ecco perché i grandi laboratori vanno a liofilizzare e non semplicemente ad essiccare. 2. Esposizione al sole. Gli oli essenziali sono molto sensibili alle alte temperature e a raggi UV e quindi dovremmo preservarli da questi due grandi fattori. 3. Garza. Se noi andiamo a mettere la garza sul vasettino insieme all'acqua presente nell'elicriso evaporeranno anche gli oli essenziali. Quindi nel tuo oliolito ci saranno cosa? Ok i carotenoidi e gli acidi grassi che sono dei composti fighissimi, ma andremo a perdere gli special guest. Ecco come noi preferiamo procedere. Innanzitutto utilizziamo i fiori freschi, preferendo quelli che sono aperti da pochissimo, quindi evitiamo di utilizzare i boccioli e sicuramente non usiamo quelli già sfioriti. Andiamo a staccare i fiori dal gambo perché nei fiori che è maggiormente presente il fitocomplesso e il gabbone abbastanza povero. Li mettiamo dentro un vasetto perfettamente pulito, gli tagliuzziamo, diamo dei colpettini sul fondo e ci versiamo tanto olio quanto ne servirà per coprire interamente la botanica senza sormontarla troppo. Poi chiuderemo il vasetto e lo porremo in casa all'ombra, al fresco, per un tempo che va dai 40 ai 50 giorni. Dopodiché sarà pronto per essere filtrato, imbottigliato e utilizzato. La tradizione invece lo vuole esposto al sole e anche noi un vasetto lo facciamo sempre, per un tempo che va dai 20 ai 25 giorni. Dopodiché appunto si procede come per tutti gli altri olioliti. In questo caso però vi consigliamo sempre di mettere il tappo per evitare che gli oli essenziali evaporino insieme all'acqua e di proteggere il nostro oliolito con della carta stagnola. Questo oliolito lo utilizzeremo per tutti i problemi della pelle, dall'eczema, alla psoriasi, dermatiti, punture di insetto, ferite, ulioni, per tutti i problemi possibili e anche immaginabili ed è adatto ad ogni età per noi umani e per i nostri animaletti. E tu come lo prepari l'oliolito di Elicriso?